In questo numero del Salus Tg, il ministro Lorenzi nella fecondazione terologa sarà inserita nei LEA, i principali punti del decreto. L'AFNOMCEO, rinviare l'obbligo assicurativo per i medici previsto dal 15 agosto. Pani, poche risorse per l'AIFA, per mantenere competitività andrebbero potenziate. I centri pubblici di PMA chiedono di essere remessi al pari dei privati e per questo la fecondazione terologa sarà inserita nei livelli essenziali di assistenza, in sede di prossimo aggiornamento. E nelle more di questo aggiornamento occorre vincolare una quota di fondo sanitario per l'accesso a questa tecnica nei centri pubblici. Lo ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Sono nove i punti cardini del decreto legge sulla fecondazione terologa. Previsti, oltre ai limiti di età per donatori e donatrici e del numero di figli che possono generare, anche l'istituzione di un registro nazionale dei donatori e un rimborso economico simile a quello che si riceve quando si dona il midollo osseo. Il 15 agosto scatta l'obbligo assicurativo. Abbiamo già inoltrato la richiesta che riconfermiamo di un rinvio della scadenza di tale obbligo. E ciò non solo per favorire l'accesso a polizze assicurative eque e sostenibili, ma anche per non allentare l'attenzione del ministro della Salute sulle sue responsabilità in questa materia e quanto afferma la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici in vista dell'imminente obbligo assicurativo per i camici bianchi, esclusi quelli dell'SSN. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha sempre più responsabilità e incarichi, ma il numero dei suoi dipendenti è insufficiente e le risorse a disposizione sono le più basse di tutti i paesi del G20. Lo ha evidenziato il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Pani, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera per l'indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto Superiore di Sanità dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e della stessa AIFA. Nell'ottica di quello che accadrà in futuro, andrebbero potenziate le risorse dell'Agenzia, sia strutturali che umane, ha sottolineato Pani.